La vicenda della sanità pubblica, ragazzi, io sono sconvolto, adesso al di là di quello che è successo durante il periodo del Covid, la sanità pubblica mi sconvolge, i tempi, le liste di attesa, ma la riduzione al nulla dei medici di base, che è partita col Covid, che non contavano nulla, dovevano fare quello che diceva il ministero, sennò li radiavano, ma vi rendete conto? Io giorni fa ho assorbito, registrato lo sfogo di un mio amico medico di base che raccontava proprio le grandissime difficoltà del periodo, cioè che non potevi più fare il tuo mestiere, addirittura chi andava a curare le persone in casa veniva guardato come un reietto, solo che mi diceva, quelli come me e altri che sono andati non hanno avuto problemi, non hanno avuto morti sulla coscienza, mentre gli altri sì, e questo è un dato di fatto, perché quelli poi c'è un resoconto pubblico non modificabile sul numero. Poi su quello che ci hanno scritto gli altri, di che era morto Tizio Caglio Sempronio, è un altro discorso, ma a livello meramente numerico, lui mi diceva, se prendo quei tre medici, io più due della mia zona che siamo andati a fare le visite domiciliari alle persone, abbiamo dato i farmaci giusti, noi non abbiamo morti in quel periodo, guardate gli altri per cortesia, basterebbe fare uno studio su questo per capire. Quindi la sanità è ridotta a pezzi, è imbarazzante che una persona deve fare una visita che può salvargli la vita o addirittura una sua funzionalità. Io devo fare una visita perché magari se no, se non eseguo questo test diagnostico, io non posso sapere dove mi devo curare, potrei perdere un arto, perdere la vista, che ne so, una mia funzionalità, rimanere disabile, per esempio, oppure soffrire, morire. E ti dicono, ci vediamo fra due anni, tre anni, cinque anni. Ma è un film, è una presa in giro. Poi vai e vedi queste persone, vai nei pronto soccorso e vedi, ma c'è di tutto lì dentro. Cioè noi ormai qui in Italia la gente viene qui per poi piantarsi davanti agli ospedali perché è un luogo dove ricevi assistenza e sembra veramente una situazione paradossale, drammatica. Cioè non avremmo mai immaginato 30 anni fa, 20, 30, 40 anni fa di arrivare a un punto del genere. Le infezioni nosocomiali stanno crescendo a dismisura. Già c'erano, ma oggi sento più persone che entrano e poi hanno infezioni di vario genere. Sarà giusto? Io non lo so, non sono un medico, però tutte queste robe qua io non le vedevo. E poi, signori, oggi sono aumentati notevolmente gli strani incidenti, strani incidenti. Guarda, io ne ho portato uno qua oggi perché è notizia drammatica, molto drammatica, dei giorni scorsi. Io riprendo le parole testuali sui giornali più blasonati come Corriere della Sera. No, eccolo qui. Lo vediamo in video perché ci sta guardando alla tv. Ma l'ora è alla guida. Travolge le auto al casello. Tre morti, sei feriti. illeso il casellante, chiuso un tratto di autostrada. Questo è successo a Rosignano. Rosignano. Ci sono anche dei bambini feriti di 3 e 5 anni. Cioè, uno... Ci sono anche i filmati che circolano in rete. C'è una onda scura. E quella ha continuato la sua corsa alla velocità che teneva prima. E si è schiantato da sal casello. Punto. Cioè, come se non ci fosse nessuno alla guida. Erano due turisti tedeschi, quindi, ovviamente... Ora, è chiaro che... E come si fa? Cosa è successo? Quante volte voi nella vostra vita avete visto questi episodi così ripetuti come li vediamo oggi? Io ho 62 anni, ragazzi, e non l'ho mai vista una cosa del genere. Cioè, ne ho viste, sì, qualche volta è accaduto, attenzione, sono già accaduti così... Ma con la frequenza di oggi non li vedo. Come raccontavo la scorsa settimana, io negli ultimi giorni ho perso due compagni di scuola, tutti insieme, non avevano nulla. Ok? Più altre persone. Dice, sì, è sempre successo. Eh, ma non con questa frequenza. E allora qualcuno si dovrà porre una domanda. Ecco perché, Francesco, quando tu hai toccato il tasto sanità, a me mi sono rizzati i capelli. Perché la sanità è in una situazione, io direi, disdicevole. Va bene questa parola così educata? Eh, perché se no dovremmo utilizzare altri termini. Dovremmo utilizzare altri termini. Grazie. 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 Grazie.